Buonasera, siamo qui a Napoli, non per la prima volta ma da parecchie volte che veniamo qui a Napoli dal Vomero. Adesso siamo stati quest'anno a Piazza Dante, lo scorso anno a Chiaia e qui per portare il nostro cioccolato a Napoli e farlo conoscere ancora di più come prodotto. Noi siamo una famiglia di cioccolatieri nata nel 1985 precisamente a Foggia è stata fatta una fusione fra la famiglia di mia moglie che erano cioccolatieri e la nostra famiglia originaria di Napoli fra Napoli e Montevergine che producevamo torrone. Noi abbiamo unificato queste forze creando una nuova famiglia cioccolato e torrone. La nostra passione che con gli anni sta andando avanti è il cioccolato quindi abbiamo avuto l'opportunità di avere in collaborazione un'azienda di Perugia che è molto conosciuta a livello artigianale come prodotti di alta qualità e stiamo facendo una collaborazione e quindi abbiamo creato un nostro marchio nuovo che si chiama Cioccolato e Benessere. Questo cioccolato che noi utilizziamo è un cioccolato tipico monorigine è un cioccolato che proviene dal Ghana o dall'Equador che sono due cioccolati molto buoni che facciamo questo tipo di lavoro con i monorigine in quanto il cioccolato è più prelibato, più pregiato perché il cacao è di un'unica produzione e quindi il prodotto viene più esaltato. Come dicevo i nostri prodotti di punta che stanno andando tanto, tanto, tanto come vi sta facendo vedere l'operatore è questa tavoletta che abbiamo inventata tonda che esalta il cerchio e l'inizio della vita, ecco, il cerchio non ha fine quindi immaginate a che cosa noi ci siamo dedicati alla vita perché il cioccolato è salutare e fa bene. Volevamo in un certo senso farvi conoscere i nostri prodotti che abbiamo portati qua a Piazza Dante in questa occasione ci abbiamo il cioccolato monorigine che è un prodotto che viene direttamente dall'Equador e viene lavorato e poi dopo portato qui è fatto da noi in forme queste qua tonde portiamo anche il cioccolato è un cioccolato al 70% ci abbiamo un 80, un 90 e un 100% poi abbiamo il latte che è un cioccolato molto particolare come dicevo perché è senza grassi idrogenati e quindi è un cioccolato di qualità le varie forme che facciamo sono queste qua in questa occasione facciamo varie forme di cuori facciamo varie forme di lecca-lecca poi il nostro punto di forza che noi abbiamo sempre puntato è il famoso bacio di Giulietta e il bacio di Romeo che sono qui esposti e quindi già dall'anno scorso sono state una novità quest'anno sta continuando la vendita perché è un prodotto che è già conosciuto qui a Napoli facciamo anche l'uva del nonno che è un'uva che è in uso tanto qui a Napoli negli anni scorsi tanti anni fa è un'uva messa nel maraschino e quindi viene poi ricoperto di cioccolato fondente allo stesso modo facciamo anche la ciliegia che ha lo stesso precedimento la ciliegia sotto spirito poi viene messa nella marasca e allo stesso tempo viene lavorata con il cioccolato fondente poi facciamo il nostro cremino che è molto buono è un prodotto che si usava tanti anni fa quello là è tradizionale di una volta abbiamo riproposto gli stessi gusti proprio perché chi è della vecchia generazione possa riscoprire di nuovo il gianduiotto di una volta il cremino di una volta più avanti ancora abbiamo altri prodotti che stiamo in un certo senso lanciando sono i nostri tartufi i nostri tartufi sono veramente di crema al cioccolato fondente o al cioccolato al latte con le varie tipologie tipo Mars tipo Bueno stiamo facendo quello là al fondente al Rocher i vari gusti abbiamo poi quest'altra particolarità che è un cioccolato fondente al 70% con granella di fave di cacao e poi ad ottobre questo cioccolatino ai fiocchi di sale ha vinto anche il primo premio come prodotto innovativo come cioccolatino innovativo nel 2019 qui al Vomero a Cioccoland quest'anno abbiamo aggiunto anche i liquori che è di nostra produzione lo stesso e allo stesso tempo abbiamo aggiunto anche la grappa che è un liquore di cioccolato al latte fondente con grappa barricata un altro prodotto che stiamo esaltando e poi questa crema che è molto particolare perché è una crema senza glutine è una crema vegana che è senza grassi idrogenati viene fatta con l'olio di oliva e quindi è un prodotto del tutto naturale e alla fine quest'anno abbiamo anche portato il cioccolato liquido per la prima volta qui a Napoli che è un nostro cioccolato di produzione quindi stiamo in un certo senso anche lanciando questo prodotto qua vi salutiamo io e Cioccolato e Benessere insieme a mia moglie vi salutiamo tanto e vi aspettiamo numerosi grazie